Prima di presentare Questa sera il professor Filippo Corelli che ringrazio naturalmente per aver accettato senza esitare il nostro invito con grande generosità. E voglio dire due cose. Qualche mese fa ci ha lasciato Enzo Lippolis, un archeologo la cui profonda umanità, come qualcuno ha scritto, metteva in ombra perfino la sua eccellenza scientifica. E tra l'altro devo dire unanimemente riconosciuta e strameritata per la sua profonda dedizione e passione nello studio e sul campo dell'archeologia. Permettetemi a nome di tutto il Dipartimento di Architettura e Progetto che immodestamente dirigo di dedicare a lui questa serata. Il nostro Dipartimento ha da tempo intrapreso, come avete ascoltato, collaborazioni scientifiche con gli eccellenti archeologi di Sapienza e non solo di Sapienza, che tutto il mondo ci invidia. E grazie a ciò i rapporti tra la ricerca archeologica e il progetto architettonico, il progetto della città, sono migliorati negli ultimi anni. E proprio direi attraverso questo intenso e proficuo dibattito scientifico interdisciplinare, fortemente voluto anche dai nostri maestri, il mio, lo devo citare tra tutti, Raffaele Panella, che ha dedicato molti anni della sua vita, cercando di migliorare sempre di più il rapporto, costruendo direi anche una sorta di interfaccia straordinaria, impressionante, di dialogo tra due mondi che non erano così abituati a frequentarsi. Perché diciamo che il lavoro dell'archeologo comincia dal terreno e va sottoterra, quello dell'architetto comincia dal terreno ed emerge. E abbiamo due modi diversi di sfogliare il grande libro della storia, soprattutto di usare il grande libro della storia. Quindi queste contaminazioni per noi sono state vitali, salutari, straordinariamente importanti e abbiamo scoperto sempre più compatibili. Devo dire che lo stesso contributo che noi abbiamo ricevuto da questa simbiosi che abbiamo attivato con l'archeologia è stato, secondo me, di vantaggio reciproco. Ci siamo capiti sempre di più e abbiamo capito che in fondo l'oggetto che amiamo è lo stesso, è la cultura materiale attraverso la quale l'uomo ha costruito lo spazio dove vive e produce e dove si svolge, come si dice, tra organismi viventi, la vita e il passaggio osmotico di materia. Io dico che il protagonista di questa terza serata qui a Piazza Borghese, il professor emerito Filippo Coarelli, che credo non abbia bisogno di presentazioni, ci serve moltissimo perché intanto è uno dei pochi, credo, se non pochissimi permettetevi di dire, che forse ha nella testa la pianta di Roma antica in tutte le sue articolazioni. non è una cosa facilissima, anche per molti eminentissimi, illustrissimi archeologi. Vorrei ricordare qui alcune cose a vantaggio delle persone che non avessero intercettato o incrociato la sua opera, che mi sembrano abbastanza interessanti. La prima cosa è che lui è una delle persone che ha seguito come redattore e forse quindi anche come cofondatore, dalla metà degli anni Sessanta, forse era il 1967, la rivista Dialoghi di archeologia creata da Ranuccio Bianchi Bandinelli, importante, importantissimo, innovatore, anzi rinnovatore degli studi di archeologia, in particolare della storia dell'arte antica in Italia, in contatto tra l'altro straordinario con la cultura europea del suo tempo. A proposito, qui va sottolineato il fatto che questa visione internazionale è stata importante e attorno al suo insegnamento costruito una scuola che successivamente poi rinnoverà gli studi archeologici in Italia, di cui hanno fatto parte, oltre che Filippo Corelli, anche personalità come D'Agostino, Antonio Giuliano, Adriano la Regina, Mario Torelli, Fausto Zevi e poi i più piccoli che adesso intanto sono diventati molto grandi. Devo ricordare che Filippo Corelli è stato ordinario, è ordinario, di storia romana, insegnato, antichità greca e romana, antichità romana e religione del mondo classico presso l'università, la facoltà di lettere e filosofia di Perugia. E poi ricordo una cosa che io ho seguito perché invogliato dal mio maestro, il professor Panella, che all'inizio degli anni Ottanta ha condotto con la RAI il memorabile ciclo dedicato all'era antica della straordinaria storia d'Italia, mettendosi anche in questa veste di grande divulgatore, sono memorabilissime le sue guide sulle quali tutti noi abbiamo imparato molte cose, di oggetti anche molto famosi e che ci sono stati mostrati per la prima volta con una intelligenza e con una chiarezza straordinarie. E poi naturalmente ha scritto, divulgato e condotto importanti attività anche nel campo, scavi eccetera. E poi l'ultima cosa che voglio dire, lui non si arrabbi, che è una cosa importante, nel 2003 è stato insegnito dall'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azzelio Ciampi, come medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte. Quando la cultura è considerata una importante risorsa per un paese, quando i luoghi della cultura sono considerati luoghi importanti per un paese, un paese può crescere, quando questo non avviene un paese deprime, deprime le sue aspettative, deprime le sue speranze, ma deprime soprattutto la sua dignità morale e direi anche cognitiva. perché la cultura, e stasera ne avremo sicuramente un assaggio straordinario, è quella cosa che ci permette sempre di guardare di qualsiasi materia si parli, soprattutto anche quando si parla di un antico passato, è solo quella cosa che ci permette di guardare con fiducia e con uno sguardo proiettivo il futuro e dalla speranza alle anime di gestire meglio un'esistenza che non può essere miserabilmente trattata e liquidata con le cose a cui assistiamo oggi e che mortificano, mortificano, soprattutto un altro dato importante, che è il passaggio testimoniale. Noi abbiamo il dovere di prendere quello che gli altri ci hanno lasciato, custodirlo e possibilmente migliorarlo. Sono miserabili quelli che pensano che l'eredità ricevuta vada maltrattata, calpestata e buttata via. Grazie. Io vi rubo solo un secondo intanto per accogliere il professor Quarelli qui. Chi viene oggi per la prima volta si accorgerà che quando questa piazza diventa un po' più buia e meravigliosa, oltre che il fatto che si vedano meglio le immagini, però io volevo chiedere, siccome ci aspettiamo tutti dal professor Quarelli che la sua sarà una relazione molto, una lezione anche abbastanza tecnica, quindi lontana anche da incroci con la politica dei nostri giorni, però siccome lui oggi, ieri, ma è uscita oggi, ha rilasciato un'intervista per Repubblica, come anche Portoghesi, nella quale ha affrontato alcuni problemi, a partire da quelli che riguardano la cura del patrimonio, l'idea del giacimento culturale, l'idea che in qualche modo questa storia che abbiamo intorno deve essere messa al lavoro, messa a fare, come dire, a fare patrimonio, a fruttare, eccetera. che vorrei che partisse un po' da questo per introdurre la sua lezione, facendo prima una considerazione dell'incrocio che c'è tra il nostro patrimonio storico e l'attualità. Grazie. Bene, allora, così sovraccarico di responsabilità, e dovendo per di più parlare dopo due lezioni che mi hanno detto bellissime, alle quali non ho potuto partecipare della Conforti e di Portoghesi, non essendo tra l'altro architetto e parlando a un pubblico che non è di soli architetti, spero, e quindi mi è stato richiesto di essere comprensibile, in genere lo sono, ma voglio dire combinare un discorso su Roma in un'ora, forse meno, spero, non saprei, coniugando insieme una visione un po' da esperto della materia, ma che sia anche divulgativa e comprensibile a un grande pubblico, il tutto parlando di un soggetto come Roma senza specificazioni ulteriori, vabbè, vi dico subito che non sarei venuto, insomma, cioè mi sarei nascosto anche perché in questo periodo sono un po' stanco e sto completando, ho completato un lavoro, un altro libro sul Roma, ma su un aspetto che credo possa interessare molto gli architetti perché cerco di, come dire, mi occupo di un argomento argomento che è stato definito inesistente, cioè da un noto studioso inglese il quale è detto che a Roma i luoghi dell'amministrazione antica non esistono, cioè non si vedono, ce ne sarebbe neanche uno identificato. Io ne ho identificati una quindicina, ma forse insistendo ne ho ritrovato anche altri, cioè noi abbiamo di Roma un'idea di città monumentale sostanzialmente non solo per una tradizione accademica che è inutile che ha i suoi meriti ma anche per un fatto obiettivo, cioè che i quartieri di Roma che sono stati, che sono conosciuti, che sono scavati sono i quartieri centrali, sono i quartieri della grande rappresentanza prima repubblicana poi imperiale, quindi sono il Foro, il Palatino, sono le zone cioè che nel trasferimento che la città ha conosciuto nell'Alto Medioevo in cui il centro di Roma si è spostato verso Campo Marzio dove ci troviamo in questo momento ovviamente hanno lasciato libero questo trasferimento ha lasciato libero tutta l'area diciamo oltre il Campidoglio il Campidoglio era il limite della Roma Antica e lo è stato poi ma nel senso inverso poi nel senso che il deserto cominciava dal Campidoglio andando verso il Colosseo dove era una zona totalmente libera e chi ha permesso fra l'altro di scavarla di conoscerla ed è ovviamente una zona monumentale ma tutte le zone residenziali di Roma tutti i grandi quartieri dei Colles dal Quirinale fino all'Esquirino cioè i luoghi dove si viveva normalmente dove erano le case e anche gli uffici pubblici e anche tutto quel minuto quella minuta presenza del commercio eccetera di cui abbiamo qualche frammento del tutto isolato però direi che nonostante questo nonostante questo vuoto di documentazione questa inconoscibilità sostanzialmente della città abitata abbiamo frammenti minimi si deve sopperire con non so con gli scavi di Ostia certamente non con quelli di Pompei che è una città diversissima da Roma Ostia forse meno allora studiare quelli che sono un po' elementi della vita pubblica sociale i luoghi dell'amministrazione il titolo sarà questo in realtà ce ne sono moltissimi perché anche i luoghi dell'amministrazione stanno nella zona monumentale ma sono in qualche modo invisibili c'è gli archeologi lo sanno bene c'è una grande differenza tra il guardare e il vedere noi guardiamo molte cose che non vediamo veramente cioè l'archeologo lo sa bene insomma perché spesso viene assorbito dal minuto dal ridotto dal piccolo dal frammento e spesso viene distratto invece dal riconsiderare l'integralità di questi frammenti in un'unità che ovviamente è poi quella che in fondo noi dovremmo cercare che ci interessa ora in realtà questi uffici esistono ma sono stati chiamati in modo diverso perché l'approccio era sbagliato questo approccio richiede la considerazione di una serie di elementi c'era un grande filologo italiano più grande forse Giorgio Pasquali che diceva che non esistono discipline ma problemi da risolvere i problemi invece noi siamo legati a discipline siamo degli specialisti di qualcosa quasi tutti e ovviamente questo è meno grave forse per il mondo moderno dove la documentazione è enorme ma per il mondo antico è gravissimo perché noi rischiamo di lasciar cadere in un mondo che è frammentario elementi essenziali per la comprensione e quindi bisogna scegliere tra le varie discipline di cui disponiamo quelle che sono adatte al problema che ci poniamo vi faccio un esempio esiste una tradizione di studi archeologici che deriva un po' dall'architettura ma nel senso dell'architettura del rilievo dell'esame dell'oggetto che crede che si può tranquillamente rinunciare a discipline come non so la lettura dei testi antichi nessun assiriologo sarebbe serio se non leggesse i cuneiforme nessun egittologo sarebbe considerato un vero egittologo se non leggesse i ceroglifici ma un archeologo classico è ritenuto giustificato se non legge il greco e il latino ecco questo è un assurdo totale il greco e il latino Bettini recentemente ha sfondato varie porte chiuse e fiendo fra l'altro questo bellissimo libro libretto sui beni culturali e sul uso dell'importanza del latino ma per un archeologo è uno strumento di lavoro è vero la letteratura classica è quasi tutta tradotta quasi tutta intanto forse i testi più importanti per noi non sono tradotti Cesto per esempio non è tradotto ma soprattutto noi dobbiamo diffidare le traduzioni che spesso non sono fatte con una competenza archeologica sono fatte da filologi se va bene bravi filologi se va male anche filologi non tanto bravi e le traduzioni sono interpretazioni quindi bisogna sempre andare a rivedere il testo i testi nella lingua che sono tra l'altro testi trasmessi e corretti e ricostruiti nel corso di un lunghissimo periodo che va dal 400 fino all'800 i testi che noi leggiamo noi chiediamo di leggere a volte Livio noi leggiamo delle ricostruzioni ottocentesche sostanzialmente molto diverse da quelle che leggevano non so gli umanisti e quindi è un fatto tecnico essenziale l'altra cosa è l'epigrafia per identificare gli edifici antichi a Roma ci vuole lo strumento principale sono le iscrizioni è un strumento secondario ma importantissimo non solo le monete vi faccio un esempio se io affronto lo studio della topografia di Roma devo partire dai testi non posso partire dai monumenti perché sono trammenti sono pezzi da ricostruire da interpretare e quindi sicuramente l'elemento che ci dà il massimo di unità e di complessità è il testo i testi se invece vado a Pompei devo fare il contrario devo necessariamente partire dal contesto archeologico dal dato materiale dall'edificio o dall'oggetto perché a Pompei disponiamo di molti meno testi quindi anche l'approccio che noi abbiamo con oggetti differenti faccio il caso di Roma e Pompei potrei dire Ostia o qualsiasi altra città antica ci richiede approcci diversi appunto è importante il problema da risolvere e non i mezzi con cui noi affrontiamo questo problema che non sono per forza sempre gli stessi naturalmente questo portato all'estremo è impossibile però questo significa che la soluzione è ovvia è soltanto la collaborazione l'equip non c'è altro modo per noi di lavorare il lavoro in equip è essenziale e sono molto contento che sia commemorato Enzo Lippolis perché Enzo Lippolis è un prodotto dell'università di Perugia che per un po' di anni è stata forse una delle università più importanti per l'archeologia in Europa per la storia antica anche perché c'è stato un converge di persone piuttosto importanti come Torelli ed altri allora veniamo invece a quello che avrei dovuto dirvi se non avessi avuto questa introduzione io devo parlare per sondaggi devo fare delle scelte non posso farvi la storia di Roma dalle origini fino alla caduta dell'impero d'Occidente dovrò fare delle scelte e in queste scelte cercherò di evidenziare dal mio punto di vista di archeologo storico quindi non dal punto di vista di un architetto che non sono quali tipi di informazioni generali si possono ricavare da un esame di dati che non sono solo archeologici come cercavo di spiegare ma sono riflettono una mentalità che non è la nostra il mondo antico è diverso è proprio per questo interessante la soluzione è quella della guida di Pompei cioè l'attualizzazione un termopolium è un bar uno strano bar dove non ci sono alcolici dove cioè un termopolium si assomiglia a un bar ma è un'altra cosa ed è proprio questa differenza che va esaltata che rende anche la cosa al limite più interessante perché insomma voglio dire è che ci obbliga a fare uno sforzo è come studiare un'altra lingua studiare un'altra lingua amplia molto le nostre prospettive ci permette di vedere cose che anche della nostra lingua perché la vediamo da un altro punto di vista giriamo il polo che guarda da un'altra angolazione e quindi come dire è questo modo che è quello giusto di affrontare un mondo e vale anche per il medioevo e vale anche per il barocco ma per il mondo antico in modo particolare quindi credo che alla fine questo si chiami semplicemente storia cioè un percorso un percorso che ci porta da situazioni ad altre situazioni e che ci permette di misurare la distanza che è la prima cosa da fare prima di assimilare tutto in una specie di polpetta in cui tutto è uguale tutti i gatti sono grigi allora io volevo parlare intanto della posizione di Roma ma della posizione di Roma ne parlano molti autori antichi per esempio ne parla Cicerone in un modo molto interessante cercherò di partire da qui Roma rispetto a Lazio un vetus è una città marginale la storia di Roma non si capisce se non si prende in esame la situazione originaria cominciando dal territorio allora questa è una vecchissima anche questo è un reperto archeologico praticamente perché è una vecchissima carta di un architetto anzi di un ingegnere che si chiamava Cozzo che ha studiato per primo tra i primi insomma la situazione geologica di Roma e più o meno è questa Roma è il risultato di un processo geologico complessissimo molto antico che io adesso non vi descriverò ma praticamente è come una mano cioè praticamente il livello più superficiale del resto è costituito tra i Monti Albani e il Tevere da una serie di colati non di colati di lava ma di come dire di tuffi vulcanici che si sono stratificati attraverso una lunga vicenda e questo è dovuto al vulcano quindi era a un certo punto una sorta di pianura in questa pianura una serie di corsi d'acqua ha scavato gli affluenti del Tevere poi finalmente ha scavato dei canaloni dei fossati che dividono le colline quindi le colline sono un rilievo in un certo senso negativo e forse si capisce così il fatto che delle cosiddette sette colline poi sono di più o di meno comunque alcune si chiamano montes altre si chiamano colles per esempio il Palatino è un mons il Campidoglio è un mons l'Aventino è un mons ma il Quirinale e il Viminale sono colles probabilmente ecco un'altra disciplina fondamentale per noi la linguistica un collis è un promontorio qualcosa che si stacca da un pianoro e appunto come sono il Quirinale e il Viminale sono come le dita di una mano mentre a più grande distanza più verso il Tevere invece si tratta di colline più o meno isolate e questa è la conformazione della città ora vi dicevo la posizione di Roma è al margine del Lazio il centro del Lazio è il Mons Albanus Montecavo ed è lì che è nata il Nomen Latinum Roma è al confine con l'Etruria ma lo è talmente che questo è il foro Boario riconoscete penso il Tempio Rotondo e il Tempio Rettangolare di Portunus certamente di Ercole qui c'è Santa Maria in Cosbed qui c'è Santo Mabono il Tempio il Forolitorio il Teatro di Marcello e il Ponte Emilio il primo ponte di Pietro e il Ponte Sublice il Ponte di Legno il primo ponte il Tevere se voi traversate il Tevere vi ritrovate in territorio etrusco e questa etruscità diciamo del territorio a destra del Tevere è tale che Trastevere è considerato area etrusca agere etruscus o agere addirittura veientanus fino ancora ai Flavi quando Vespasiano fa delimitare con cippi la riva destra del Tevere dalla parte di Trastevere cippi che servivano a delimitare la parte pubblica la riva era ovviamente proprietà dello Stato era pubblica perché doveva servire negli scopi portuali di Roma eccetera questi scippi che vengono rinnovati continuamente dunque il Vespasiano negli anni 70 quindi in pieno primo secolo dopo Cristo li fa rinnovare e dice che questi limiti delimitano la ripa veientana quindi la riva a destra del Tevere è sentita come territorio etrusco non latino e Roma è lì al margine quindi dobbiamo partire dal fatto che Roma è una città di margine rispetto al polo latino principale che sono i monti albani questa marginalità però ha un elemento che invece non è marginale che è il fiume forse non avete mai riflettuto abbastanza al fatto che Roma è l'unica città che sta sul Tevere non ce ne sono altre neanche tanti paesi poi sono sempre a una certa distanza Roma è proprio sul Tevere c'era Veio Veio è legata al Tevere anche se non è direttamente sul Tevere è una certa distanza ma comunica col Tevere tramite un fiume un piccolo fiume ma come vedremo Roma realizzerà a partire con la presa di Veio ne riparlerò poi subito nel 396 dopo dieci anni di assedio che sono confrontati con la guerra di Troia eccetera eccetera con la conquista di Veio Roma raddoppia il suo territorio e raddoppia la sua popolazione praticamente già all'inizio del IV secolo Roma è incommensurabile con le altre città latine praticamente ma già da prima già da età arcaica Roma è una città che da sola fa la guerra a tutte le altre città del Lazio e vince quindi è incommensurabile come dimensione l'idea di chi vede la Roma arcaica come un villaggio ce ne sono ancora di persone specialmente nel mondo anglosassone è demenziale e di questo volevo parlare un momento forse è inutile leggere Cicerone che dice più o meno le cose che sto dicendo cioè l'importante dice Cicerone è che Roma non stia sul mare ma su un fiume navigabile e aggiunge un fiume navigabile noi pensiamo sempre al porto marittimo pensiamo sempre alla navigazione fra Roma e il porto fra Roma e Ostia e poi Portus che è in effetti un luogo da dove arrivano queste navi scodicarie queste barche fluviali che scaricano le grandi navi commerciali nel porto di Roma e trasportano il grano e le derrate fino a Roma ma è ovvio che questi trasporti marittimi sono possibili solo per derrate che sono diciamo abbastanza ben conservabili che si conservano quindi il grano i cereali l'olio anche il vino limitatamente ma non i formaggi la frutta e neanche il legname questo da dove viene? sempre dal Tevere ma dal tratto superiore dal Tevere perché Roma come Alessandria è una città dai due porti il porto marittimo e il porto fluviale ripagrande e ripetta ripetta sacco addietro tra l'altro ora è chiaro che ripetta è a monte di tutti i ponti ripagrande è a valle di tutti i ponti quindi ripagrande diciamo marmorata la zona a sud dell'Aventino dove c'è il porto marittimo di Roma ripetta è il porto fluviale e ripetta arrivano lo sa benissimo Tina Panella arriva questo importantissimo prodotto che è il legno ma il legno non da bruciare non da ardere i grandi alberi i diabeti soprattutto che vengono da Massatrabaria una zona nell'estremo nord dell'Umbria dove per passare nelle Marche bisogna salire 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 lì c'è il punto dove gli appennini arrivano più vicini al Tevere che è navigabile da città di Castello più o meno c'è dal nord dell'Umbria e dove bastava far scendere questi tronchi di diabete lunghi anche 30-40 metri nel Tevere come nei fiumi canadesi questi arrivano a Roma e con questi si facevano i soffitti delle basiliche gli alberi delle navi e cose di questo genere vengono dal Tevere e sono venuti dal Tevere fino al XVI secolo perché questa zona è proprietà del capitolo di San Pietro quindi è importantissima dovendo poi mandare dei tronchi di lunghi 30 metri a Roma non si potevano lasciare in acqua liberi le piene il Tevere è costellato di porti su tutta la sua lunghezza i porti antichi Passo Correse per esempio è uno dei porti è ovvio che era pericoloso e quindi venivano legati in zattere portati fino a Roma e qui venduti o utilizzati dopodiché a un certo punto ci si rende conto che su queste zattere si poteva mettere qualcosa per esempio del vino sappiamo che prima il giovane che possedeva una villa per società di castello vendeva il suo vino a Roma e ci arrivava via Tevere quando cominciano le grandi distribuzioni gratuite probabilmente da Aureliano secondo me dal terzo secolo si cominciano a usare le botti ma prima si usano le anfore ora il tipo dell'anfora del Tevere la cosiddetta anfora di Spello ha una caratteristica particolare rispetto alle anfore marittime voi sapete le anfore antiche hanno un puntale perché nelle grandi stive delle navi sono accumulate inserite una nell'altra praticamente si mettono quattro anfore una al centro e così via ad Albenga si arriva credo fino a otto strati di anfore sovrapposte su una zattere era impossibile infatti le anfore del Tevere hanno il fondo piatto quindi sappiamo che c'era quindi un grandissimo commercio addirittura nel medioevo è più importante ripetta di ripagrande perché come dire fino fino al settecento fino all'ottocento c'è una bellissima fotografia con una grande nave di queste dell'inizio della fine dell'ottocento queste lunghe ciminiere e c'è scritto vino di Sicilia a ripetta sapete che uno dei disastri di muraglioni è proprio la distruzione di questo meraviglioso porto che credo che in realtà non sia stato totalmente distrutto forse in futuro si potrebbe vedere se non si potesse ritirare fuori perché è uno dei capolavori del barocco romano non lo so è una cosa che è stato demolito o comunque è ricoperto dai muraglioni ora questo nel mondo antico come sapete non ci sono le ferrovie non ci sono i tir i trasporti per strada sono praticamente impossibili di materiali pesanti un carretto antico porta poche centinaia di chini come si portano i grandi blocchi Martínez ha studiato il capitello della colonna di Marco Aurelio che pesa credo 56 tonnellate si è chiesto come hanno fatto per portarlo a quell'altezza con corde di canapa impossibile credo che fossero corte di sparto ma proprio in porto però non si è accorto che il più grande blocco di marmo conosciuto a Roma si trova nella villa colonna via 4 novembre adesso si può ogni tanto anche visitare ed è un blocco del grande tempio di Serapide che si trovava nella zona della piazza del Quirinale il quale pesa 90 tonnellate ed era un epistiglio poggiato su due colonne a 20 metri di altezza e ce ne erano molti altri di quella dimensione ecco voglio dire come arrivavano certamente non per strada potevano arrivare solo per via fluviale questo spiega perché i materiali che si usano a Roma in Italia Repubblicana e anche Imperiale vengono tutti per via fluviale sia i mattoni che sono fabbricati nella valle del Tevere sia soprattutto i blocchi di pietra il lapis ruber cioè il tuffo della niene che viene utilizzato al 140 a.C. per tutto l'impero praticamente e viene dalle cave che tutti forse che si vede enormi cave che poi di Tor Cervara che forse avete visto passando per andare a prendere l'accordo dell'autostrada sono cave mostruose utilizzate per secoli perché lì c'è la niene e il travertino di Tivoli sarebbe stato inutilizzabile se non ci fosse stato la niene ma a pochi metri da qui una cosa che forse molti di voi ignorano proprio dove il mausoleo d'Augusto il pavimento del mausoleo d'Augusto in lastra ancora conservato se ne ha accorto un archeologo tedesco ma stava lì da sempre c'è un disegno di architettura che rappresenta una metà del frontone del Pantheon è sicuramente quello quindi evidentemente i blocchi di marmo per la costruzione del Pantheon sono stati barcati a Ripetta perché a Ripetta c'era il porto antico anche e sgrossati lavorati sul posto su un disegno a terra ci sono anche un affittiato campano delle cose del genere a Capua e poi trasportati nel punto più vicino possibile al Pantheon e poi naturalmente da lì con carri ma con molta più difficoltà e sta anche questo a pochi passi da qui quindi va bene siamo tutti convinti credo dell'importanza del Tevere però facciamo un salto indietro di molti secoli molto prima di qualsiasi possibile fondazione di Roma guardate che Roma è stata abitata da sempre recentemente partizio pensa bene scavando sul palatino ha trovato dei materiali delle pietre scheggiate del paleolitico inferiore ecco più indietro non si può andare quindi già dal palatino inferiore il palatino era abitato quindi non si tratta di arrivi recenti ora in realtà una delle fortune di Roma quindi abbiamo visto la sua marginalità quindi la sua apertura verso il mondo esterno il suo essere in rapporto con un grande fiume navigabile sia dal mare che dall'interno ma anche fin dalla protostoria diciamo fin dall'età del bronzo il fatto di trovarsi su una grande via di transumanza la via più antica di Roma è la via Salaria la via Salaria è la via del sale che in effetti va da Sabina fino alle saline che non erano sulla riva sinistra del Tevere ma erano sulla riva destra esattamente dove è Fiumicino e queste saline sono al tempo stesso il luogo dove convergevano i pastori della Sabina nella transumanza annuale di media lunghezza che portava i pascoli invernali della costa del Tevere del Lazio e ai pascoli poi estivi degli altipiani e della montagna della Sabina ora questo è il percorso della Salaria ma attenzione non della Salaria che conosciamo noi della Salaria Vetus noi sappiamo c'erano due salarie la Salaria Vetus e la Salaria Nova la Salaria Nova va a Roma e poi va anche alle Saline ma entra nella Porta Collina cioè più o meno dove è il Ministero ex Ministero delle Finanze quindi è controllata da Roma ma prima coincideva esattamente con via di Porta Pinciana la Porta Pinciana è questa via che scende a precipizio e poi va a finire la Salaria dall'altra parte attraversa il Tritone evita completamente le colline va al passaggio del Tevere a Valle di Tiberina lì c'è il traghetto che permetteva alle pecore con pagamento in natura una pecora a traslo a passaggio ci sono stati fino a pochi decenni fa queste installazioni di traghetti con la corda sul Tevere li vedete nelle stampe cinquecentesche e seicentesche ma utilizzati si portano sull'altra via perché da lì comincia la via Campana che è quella che va alle saline e ovviamente ai pascoli estivi questo sale di Roma è uno dei motivi anche della ricchezza primitiva originaria di Roma perché Roma se ne appropria e se ne approprierà per quasi sempre vi ricordate i negozi di sali e tabacchi che erano nazionali che erano regi d'età insomma e il sale era era del Papa guardate questo ha determinato una guerra la guerra di Perugia quando i perugini sono rifiutati di pagare i dazzi che il Papa faceva pagare sul sale che era l'Italia non ha quasi miniere di salgemma e sale viene dal mare e a Perugia che faceva parte dello Stato Pontificio ci fu una ribellione ci fu un massacro fatto dagli svizzeri fu costruita la rocca che non serviva a proteggere Perugia i cannoni erano puntati verso Perugia non verso l'esterno e infatti nel 1860 la prima cosa che fece i perugini è di radere al suolo la rocca di cui restano come sapete se conoscete Perugia solo i sotterranei in cui passa questa comodissima scala mobile bene il sale è fondamentale il sale ce ne siamo forse dimenticati ma è un alimento indispensabile un uomo di medio peso consuma peso senza saperlo attraverso quello che mangia credo una ventina di chili di sale l'anno un capo di bestiame una pecora ne consuma una quindicina la prende nell'erba stessa e un bue un po' di più ma soprattutto il sale è l'unico conservante quando non ci sono i frigoriferi sia della carne che dei formaggi che del pesce e quindi ha una importanza molti dei prodotti antichi vino l'olio il sale noi li vediamo come elementi marginali mentre il mondo antico significa la stessa sopravvivenza la possibilità di conservare gli alimenti non ce ne sono altre quindi il sale è importante e quindi a questo punto Roma era un posto dove passavano i pastori sabini ma non era ancora una città non era neanche un abitato importante cominciamo dal nome la linguistica diciamo Roma recentemente è uscito un libro di un mio amico grandissimo linguista Aldo Prosdoci morto qualche mese fa e in questo libro lui si pone vari problemi di linguistica relativi a Roma arcaica il nome Roma naturalmente gli antichi dicevano Roma da Romolo mentre è il contrario Romolo viene da Roma nonostante autorevoli pareri gli archeologi contemporanei Roma è un'invenzione tarda ed è e viene da Roma Roma si chiama Roma molto tardi relativamente alla sua lunghissima storia e non si chiama certamente Roma nell'ottavo secolo e neanche nel settimo perché è impossibile che le porte del Palatino che è la come sapete il nucleo più antico di Roma avesse una e probabilmente due porte che si chiamavano rispettivamente porta romana e porta romanula non sono la stessa porta perché una dà sul foro e l'altra dà sul foro boario ora come sapete porte romane ci sono dappertutto c'è una porta romana a Milano porta romana bella porta romana ma Roma una porta romana non ci può essere è un non senso se a Roma ci sono due porte romane una grande e una piccola è chiaro che Roma non si può chiamare Roma è una cosa banalissima ma è evidente quindi Roma nell'ottavo secolo non si chiama Roma si chiamava in qualche altro modo ma questo lo sappiamo anche da altri fatti noi abbiamo la lista che è stata spesso considerata pochissimo dagli studiosi moderni dei popoli albenses cioè degli antichi popoli che formavano il nomen latinum cioè la confederazione latina che occupava il Lazium Vetus cioè dal Tevere ai monti albani e anche un po' più su ora a un livello che è quello dell'età del bronzo come dire l'habitat dell'Italia antica era costituito da popolazioni sparse in vici in villaggi però con tradizioni comuni un antenato comune e soprattutto una lingua comune quando è nato il latino è nato quando si è formato il popolo latino diciamo tra il XIV e il XIII secolo a.C. bene i popoli albenses abbiamo i 30 nomi dei popoli albenses nessuno è testimoniato ha continuità nei nomi delle città che poi formeranno la lega latina diciamo a partire dal VIII-VII secolo a.C. quando si forma la città nell'Azio si chiamano in modo diversissimo e a un certo punto quando sorgono le città appaiono nomi nuovi Tuscolo Preneste Tivoli appaiono probabilmente intorno al VII secolo quando appare Roma che non fa eccezione solo che quindi c'è stata una rivoluzione il passaggio alla città alla struttura urbana è un passaggio rivoluzionario ci sono popoli dell'Italia che non l'hanno mai conosciuto i popoli appenninici i popoli dell'interno non conoscono la città e non la conoscono ancora fino ad oggi a meno che voi pensiate che Isernia sia una città insomma o Campobasso perché? perché non esistono le condizioni minime economiche strutturali perché la città esista cioè un'accumulazione primitiva di beni che permetta un'articolazione sociale complessa eccetera eccetera una volta leggevamo Marx allora lì si è conservata questa struttura vi faccio un esempio mentre non so noi abbiamo i velienses i velienses potrebbero essere gli abitanti di Roma quelli della Velia per esempio non c'è Roma in questo elenco ci sono altri nomi poi a un certo punto appare Tuscolo e scompare il nome antico ma in zone come l'Abruzzo dove la città non si forma mai o si forma in modo iniziale non arriva mai a piena maturazione tranne che le colonie romane che sono città ma esportate da Roma Alba, Fusci la stessa Isernia bene prendiamo Chieti Chieti si chiama Teate ed è il nome della città però si chiama Teate Marrushinorum perché i marrushini sono il popolo che precede la città in quel posto e il fatto che resti indicata come Teate Marrushinorum significa che il passaggio dalla fase prespotostorica diciamo di popolo ancora non urbanizzato alla città non è stato completato per cui restano i due nomi questo non accade nel Lazio ora Prosdocimi dice anche un'altra cosa che cos'è il foro sembrerà strano ma foro forum viene da fores da fuori il foro è quello che sta fuori che per noi è drammatico il foro sta al centro della città non il foro boario non i fori commerciali il foro è fuori che cosa è fuori della città palatina ovviamente è un esterno è un fuori rispetto alla città le fores sono le porte che danno verso l'esterno gli ostia sono il contrario porta è la porta della città non è la porta della casa ora se il foro è esterno questo spiega perché le vie che attraversano il foro la via sacra la via nova si chiamano vie nessuna strada di Roma antica si chiama via si chiamano vicus semita clivus le vie sono quelle esterne via salaria via 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 flaminia via via cassia via appia sono esclusivamente via è il nome della via esterna all'abitato quindi la via sacra è esterna all'abitato del palatino anch'essa come il foro sta fuori però perché Roma si chiama Roma Sprosdoci mi dice una cosa a questo punto non convincente cioè che Roma si chiama Roma perché potrebbe essere il foro stesso però allora si chiamerebbe Roma non foro io credevo di aver trovato una risposta soddisfacente o almeno un'ipotesi soddisfacente di averla trovata io gli archeologi quasi sempre si accorgono che le loro scoperte erano state già fatte in genere da un archeologo tradesco fra il 1820 e il 1850 ed è una cosa apro la Paola di Sova sotto voce Rumon e trovo che Rumon significa in latino arcaico ha a che fare con ficus ruminalis con rumina la mammella il liquido significa fiume è il nome più antico del fiume a Roma lo dice l'aveva già detto Corsen torna al 1860 e sta nella Paola di Sova però nessuno sembra essersene accorto ora la porta romana se viene da Rumon guardate in Etrusco Roma si dice Roma in Etrusco non ce la ho significherebbe la porta che dà sul fiume infatti la porta romana sta dove sono le scale Caci che scendono verso il fiume ma c'è di più quando sono state create le mura serviane cioè le mura della città verso il Tevere la porta che sostituisce la porta romana si chiama porta flumentana quindi è evidente che Roma si chiama Roma perché è la città del fiume che altro potrebbe essere io credo che sia l'unica spiegazione ragionevole almeno per ora allora vediamo qualche altra di positiva prima di concludere va bene questo è appunto il ponte moderno vedete il ponte rotto accanto che permetteva di passare in territorio etrusco guardate anche la viabilità da Roma vedete tutte le disposizioni dei rilievi montuosi che obbligano a percorsi che sono per esempio la valle del sacco importante guardate per andare a sud da Roma per andare a nord non c'è problema ma per andare a sud ieri altro ieri ieri e oggi e anche domani non c'è possibilità se uno vuole andare a Capua in antico a Napoli oggi può fare due cose o prendere la valle del sacco liri o prendere la valle pontina la pianura pontina la via la bicana antica la via casilina moderna passano dall'interno la più antica ferrovia Roma-Napoli passa dall'interno poi passerà sulla costa ma l'alta velocità ripassa di nuovo per l'alta valle per la valle del liri l'autostrada passa dalla valle non ci sono altre possibilità quindi la viabilità è una viabilità arcaicissima probabilmente ancora preistorica e spesso viabilità però quello che volevo mostrarvi è che invece verso l'interno qui siamo nell'alta Sabina noi troviamo però andando più verso est una serie di straordinari pascoli montani non so se conoscete questa zona verso Città Reale è la zona colpita dal terremoto di Amatrice tra l'altro dove ci sono questi straordinari pascoli di Artura che erano celeberrimi soprattutto per l'allevamento dei muli ecco il mulo nelle società antiche ma anche in molte società contemporanee è in particolare in Sabina è l'unica possibilità di trasporto di materiali pesanti specialmente in territori in zone non con viabilità rudimentale se voi andate in queste zone se vi alzate presso la mattina vedrete delle carrovane di muli 10-15-20 muli che senza nessun accompagnatore umano tutti in fila lungo la strada se ne vanno in montagna vengono caricati di legna e tornano giù da soli quindi c'è questa cosa straordinaria ora i grandi allevamenti di muli antichi erano nel Reatino erano famosi questa è la via Salaria nel territorio Sabino e vabbè nella tabula puitingeriana e appunto la situazione del Monte Cavo qua Monte Albano di cui parlerò subito del lago Albano il lago di Nemi e vedete quanto Roma è marginale perché il popolo latino nasce qui il nostro scavo tra l'altro al tempio di Diana le Morenze ha permesso di dimostrare che il santuario nasce nella tarda età del bronzo e abbiamo avuto la fortuna di trovare il deposito votivo iniziale della fondazione del santuario si data fra il XIII e il XII secolo è stato messo lì e mai più toccato è il lucus cioè il boschetto sacro famoso dove il Rex Nemorensis faceva il celebre duello va bene insomma andiamo avanti va bene questo ce lo risparmiamo anche più o meno la salaria se ne è parlato ecco come vedete Roma è una città di due porti tutta la zona monte di Castel Sant'Angelo è occupata da scali portuali il monte Giordano forse lo conoscete è uno strano monte perché non può essere naturale come non è naturale il testaccio come non è naturale il monte Citorio sono scarichi lo sappiamo sono scarichi di anfore io credo che il monte Giordano che non è stato mai scavato sia il deposito dei materiali delle anfore soprattutto che vengono dal porto del fluviale penso che sia pieno di anfore di spello sì ma nessuno ha mai fatto uno scavo lì ecco una cosa che si potrebbe fare e invece il porto marittimo scusate era qua prima il porto Stiberinus davanti al ponte Sublicio poi si estende a tutta la zona di Marmorata ma anche a Trastevere ed è naturalmente prima dei ponti dunque il Palatino un attimo dunque il problema credo sia quello di come considerare il mito si è parlato di religione ecco la religione antica dico una cosa banale è diversa dalla nostra ma è diversa perché riflette una molto più alta complessità si diceva una volta ci sono 20 modi di dire cammello in arabo e 40 di dire neven in norvegese cioè è evidente che c'è un problema del genere anche in questo caso ora il poi ci arriverò il Palatino è il luogo della fondazione della città in realtà la città è nata da una convergenza di una serie di villaggi che occupavano la totalità del territorio dentro le mura aureliane quindi una zona amplissima attraverso una serie di processi che poi cercherò di descrivere rapidissimamente ora il Palatino però è una sorta di capitale è il centro che si sviluppa come centro direzionale in qualche modo e però anche qui l'uso delle fonti noi in tacito abbiamo la descrizione del Pomerium Palatinum in cui ci vengono indicati i quattro angoli del Pomerio Palatino questa cosa è stata presa sul serio troppo sul serio perché in realtà tra l'altro uno di questi quattro angoli è l'ara massima di Ercole ora il culto di Ercole a Roma dimostrabilmente arriva alla fine del settimo secolo cioè un buon secolo e mezzo dopo la data teorica di Romolo quindi è in realtà un'invenzione molta tradizione è invenzione non gratuita però in realtà loro sapevano benissimo che esisteva una città Palatina un abitato Palatino ma la domanda che fanno sempre gli archeologi gli storici ipercritici come facevano a saperlo bene c'è una sola risposta attraverso un complesso mitico rituale cioè la continuità non c'è bisogno di avere opere storiche scritte o antiquarie a Roma cominciano tardissimo cominciano alla fine del terzo secolo quello che permette la continuità e la memoria è il rito e con il rito il mito il rapporto che c'è tra rito e mito è molto semplice il mito serve a spiegare l'origine del mito è sempre un mito eziologico i miti non sono favolette per bambine sono cose molto serie ora noi sappiamo che i luperci cioè questo sacerdossio arcaicissimo legato al lupercale ogni anno lustravano al 15 febbraio la città il 15 febbraio è la fine dell'anno l'anno antico comincia a marzo quindi si purificava la città nel modo in cui facevano i romani cioè girandoci intorno e celebrando un sacrificio spiatorio come si fa con il suo vetauridia come si fa anche la colonna traiana per dedicare un accampamento come fa il sacerdote ai funerali avrete visto dei funerali cattolici adesso stanno perdendo l'abitudine ma voi sapete a un certo punto il prete scende con il turibolo c'è la cassa e gira intorno e si ferma fa la sua aspersione cioè diciamo togli i cattivi odori poi insomma ma soprattutto purifica il cadavere girandoci intorno fa un allustrazio e questo allustrazio avveniva prima adesso hanno perso l'abitudine in senso anti-orario cioè da destra verso sinistra come tutte le allustrazioni antiche le processioni antiche e così facevano i luperci ora è chiaro che su questa base il rito si è naturalmente legato al mito di Romolo che spiega questo fatto dei luperci la corsa di Remo e Romolo intorno al palatino naturalmente e quindi si è conservata la memoria di un abitato che è il palatino ma si è conservata attraverso un fatto rituale ultima due cosette poi veramente smetto un esempio di mito e rito si è parlato di luoghi della memoria i dieux de mémoire sono come il solito come la longue durée e molte altre cose di invenzione francese i luoghi di memoria la Roma antica sono importantissimi il foro romano era una specie di presepio tutti gli eventi mitici e anche non solo mitici che si erano svolti nel foro erano rappresentati da gruppi scultorei posti nei luoghi dove le cose erano o sarebbero avvenute secondo la tradizione quindi si aveva una visione di luoghi di memoria in cui tutta la storia di Roma era presentata come un enorme presepio ora come sapete cioè forse non lo sapete Romolo Roma l'ha fondata due volte è una cosa di cui si sono accorti solo recentemente si è accorto fra l'altro un altro amico morto prematuramente bravissimo storico Fraschetti Plutarco dice che Romolo prima fonda la città Palatina con l'aratro poi c'è Romolo che salta eccetera però subito dopo parla di un'altra fondazione e questa fondazione non avviene sul Palatino ma nel foro Romolo scava una fossa tutti gli abitanti di varia provenienza di Roma gettano nella fossa i frutti dei luoghi da cui provengono e questa fossa è il mundus c'è l'Umbilicus Urbis c'è ancora quello che chiamavano l'Umbilicus Urbis sta vicino all'arco di Settimo Severo infatti Plutarco dice ed è una fonte latina barrone sicuramente che lì viene fondata la città quello è il centro della città e intorno a questa viene poi come un grande cerchio fondato il Pomerio ed è un'altra fondazione ovviamente naturalmente storici hanno detto no no ma il mundus sta sul Palatino intere generazioni di archeologi da Boni hanno cercato ogni posto che trovavano era il mundus il mundus lo dice Plutarco è nel foro ancora oggi visibile ma è evidente che questa città non può essere quella Romulea dell'ottavo secolo è chiaramente la grande Roma dei Tarquini è la fondazione della città diciamo quando si fa il pavimento del foro quando il foro diventa veramente il centro della città che prima non era e allora era una necropoli in parte del resto una cosa molto di fuori e quindi viene attribuita a Romolo una cosa che invece appartiene a Tarquino Pisco Servio Tullio questo fenomeno è stato battezzato da un altro grande storico anche lui morto recentemente parlo solo di amici morti mi sto accorgendo Domenico Musti il quale era chiamata romulizzazione cioè tutto quello che ha a che fare con una fondazione è romuleo anche se ovviamente appartiene a fasi diverse perché è una fondazione di città soprattutto di una città non fondata puntualmente ma che si è sviluppata diciamo quasi naturalmente di una città diciamo formata e non fondata è un processo cioè è un qualcosa che dura molto a lungo per Roma dura un paio di secoli e naturalmente è il risultato di processi economici sociali politici pre-politici in realtà che poi si conclude magari alla conclusione c'è un atto formale di fondazione quella è la fondazione della città e questa avviene alla fine del settimo Romolo o chi per lui avrà fondato anche un abitato palatino ma questa è una formula di tipo augurale dirò subito allora questa fondazione questa seconda fondazione che poi è la fondazione della città più recente ha il suo mito e il suo rito di fondazione la guerra romano sabina le favolette che dirivio ma non sono favolette i romani fondano Roma ma come tutte le fondazioni coloniali è un'impresa maschile quando i greci vengono a fondare una colonia sono solo uomini sì magari le cista si porta la moglie ma il capo e poi arrivati sul posto quando fondano la città o trovano donne sul posto oppure la città dura una generazione come si fa? si va dai capi indigeni nel caso di Marsiglia per esempio e si cerca di comprare delle donne quanti cammelli voi se c'è un rifiuto si fa una guerra ed è esattamente la storia della fondazione di Roma in forma di colonia greca Romolo chiede in moglie le donne dei sabini non gli vengono concesse organizza una trappola giochi nel circo massimo nel futuro circo massimo il ratto delle sabine la guerra con i sabini questa guerra si svolge tutta nel foro romano i sabini occupano per il tradimento di Tarpea l'Arx i romani riaffrontano all'altezza del comizio che sta sotto l'Arx vengono sconfitti Romolo viene ferito si ritirano fino alla porta del Palatino porta Mugonia lì Romolo prega Giove Statore di fermare la fuga ripartono i romani i sabini fuggono e alla fine al centro del foro dove il sacello di Cloacina vicino al sacello di Giano vicino al comizio le donne sabine ormai con i bambini si buttano fra i combattenti e inducono i combattenti a fare la pace questa pace avviene in quel luogo c'era un gruppo che rappresentava l'evento adesso vi faccio vedere ecco il Palatino con il foro nel momento più antico e devo andare molto avanti e salto molte cose ma era ovvio che l'avrei fatto volevo mostrarvi una moneta scusate la lunghezza spero che ci sia tra l'altro e invece mi sa che non c'è temo che non ci sia eh vabbè pazienza comunque cosa succede è una cosa semplicissima che riguarda tutte le tutte le fondazioni praticamente la terra di nessuno che sta fra due centri abitati quello latino del Palatino e quello diciamo sabino del Quirinale Campidoglio è la zona dello scontro militare ma al momento in cui poi lo scontro militare si risolve in un trattato lo scontro di militare diventa scontro di parole non è un caso se il comizio viene fondato nel punto dove avviene la pace tra Romani e Sabini comizio il luogo dove si va insieme cum ire cioè dove nasce la politica dove c'è il combattimento armato diventa combattimento di parole diventa persuasione diventa compromesso diventa magari inciucio ma diventa politica quindi come vedete questo mito riflette la nascita della città come i francesi hanno due parole noi siamo più poveri diciamo città ma è chiaro che cité e ville sono entità diverse la cité è la città vista dal punto di vista della cittadinanza la ville è l'oggetto città ecco la nascita della cité la nascita c'è della città come corpo civico nasce dopo una guerra e dopo che si passa dalla guerra di armi alla guerra di parole ora anche questa leggenda quindi non è una leggenda per bambini è la spiegazione di un rito che è il rito dei sali a Roma esistevano i sali che sono i saltatori i preti danzanti che sono i giovani armati che ballano una danza guerriera e sono divisi in due schiere i sali palatini e i sali collini e sono riti di adolescenza sono riti di passaggio cioè sono i giovani che stanno per diventare adulti e come a Sparta si scontrano fisicamente quindi questo scontro avviene sulla via sacra non so se ci avete badato ma il combattimento comincia sotto il Campidoglio si conclude alla porta del Palatino e poi si riconclude alla metà del foro fanno un'andata e un ritorno lungo la via sacra come capite i sali fanno la stessa cosa e anzi c'è un termine tecnico due termini tecnici per raccontare questa danza armata in un senso amptruare e redamptruare andata e ritorno quindi il rito ha conservato un ricordo reale che però è mitizzato il rito è fondante cioè il rito è il fatto avvenuto in un'epoca lontana ma un fatto fondante che si ripete sistematicamente attraverso il rito perché questo garantisce la sopravvivenza della comunità la messa è il rito e il mito è la passione di Cristo riproduce la passione di Cristo naturalmente voi mi direte che Cristo è un personaggio storico ma il mito non riguarda solo personaggi di fantasia c'è il mito di Napoleone insomma cioè il mito riguarda anche personaggi reali l'importante non è che riguardi personaggi reali l'importante è che funzioni come mito finisco con una cosa che forse vorrà interessare gli architetti un problema di spazio lo spazio lo spazio a Roma è uno spazio particolare perché è uno spazio religioso ecco vi dicevo che la religione è antica adesso questa non si muove più questo non è vabbè devo tornare indietro molto a lungo c'è qualcuno che può farlo tornare non mi funziona più comunque comincio a parlare e chiudo la religione per noi è un fatto non marginale può essere anche marginale ma è un fatto è uno dei tanti ambiti delle tante sfere in cui ci ci muoviamo in cui ci rappresentiamo molto indietro molto indietro poi la fermo il problema è che la religione antica è pervasiva cioè non esiste la possibilità dell'ateismo perché la religione riguarda tutti gli episodi dell'idea vi faccio un esempio scioccante se voi andate alla caserma dei vigili di Ostia ci sono le toilette i gabinetti in basso nel cortile se entrate in uno di questi adesso non si può perché è chiuso una volta si poteva vedete che oltre al solito bancone dove si faceva tutti insieme cameratescamente l'idea del pudore antico è diversa dal nostro chiaramente c'è un'edicoletta peraltro con un'iscrizione una dedica a fortuna che ci fa in una latrina un tempietto un sacello le funzioni che si svolgono nella latrina sono funzioni anch'esse soggette a una divinità della latrina come c'è una divinità della cloaca così c'è una fortuna della latrina cioè noi prendiamo un purgante loro facevano un sacrificio a questa fortuna cioè voglio dire che la religione penetra qualsiasi ambito della vita materiale sociale e anche politica quindi abbiamo un sacco di parole per esempio noi diciamo inaugurare perdendo il senso della parola inaugurare significa un'operazione fatta dagli auguri ma non dai pontifici esiste il sacro sacer esiste il sanctus santo esiste il religioso per noi sono la stessa cosa sono sinonimi i sinonimi in origine non esistono le parole significano qualcosa di molto preciso poi mano a mano perdono una parte del loro significato e diventano sinonimi ma all'inizio non sono sinonimi che differenza c'è fra sacro santo e religioso ecco ci vorrebbero altre 16 lezioni e poi ve lo direi ma comunque c'è una differenza il problema è molto semplice esistono gli dei ed esiste una pluralità enorme di dei se io taglio un albero disturbo la divinità di quell'albero a un livello molto primitivo quindi devo fare un piaculum devo fare un sacrificio espiratorio se no mal me ne incoglie allora se è molto razionale una volta che gli dei esistono è quello che racconta Cicerone nel De Natura Deorum o nel De Divinazione ammettiamo che gli dei esistano ammettiamo che si interessano degli uomini per un filosofo antico non era del tutto ovvio Cicerone lo discute qualcuno non ci crede però dati queste premesse allora vuol dire che io posso interpretare la volontà divina siccome gli dei stanno in parte nel cielo in parte nel sottosuolo in zone precise del cielo io posso proiettare la volta celeste sul terreno costruire un templum un'area querrata che è come dire la pianta del cielo e del mondo sotterraneo del mundus naturalmente certi dei strano a sud altri a est altri a nord altri a ovest praticamente faccio una proiezione con ascisse ordinate sul suolo poi delimito l'area ci lascio un solo ingresso agli angoli metto degli alberi o dei pali pensate all'Arapacis entro dico quello lì di destra sia l'albero davanti a te devo pronunciare devo enunciare la parola magica che crea la situazione apriti sesamo e sesamo si ha la parola è fondante e quindi si chiama questo episodio e poi naturalmente libero tutta questa zona da qualsiasi presenza sconosciuta divina o meno che possa darmi problemi ecco il templum viene da temenos greco da temnos significa ritagliare quindi un tempio è una zona desacralizzata templum noi diciamo tempio se quando fanno il tempio di Giove Capitolino siccome è un tempio enorme ci sono dei tempietti di divinità terminus Juventus Juventus Mars bisogna fare non un inaugurazio che è l'operazione per fare il tempio ma un ex augurazio cioè devo dire a queste divinità guarda purtroppo io qui ci devo mettere il tempio di Giove ti dispiace scansarti un po' ma è una cerimonia religiosa richiede un piaculum tutti accettano tranne due o tre terminus perché se uno sposta terminus si perde il confine è fondamentale Juventus perché è la dea dei passaggi d'età e non si può muovere e allora ci posso fare il tempio quindi io faccio prima un templum cioè un'area che desacralizzo la curia è un tempio è un templum ma non è un templum non è consacrata poi quell'area lì se voglio farla diventare un tempio nel senso nostro intervengono i pontefici e fanno una consecrazio lo rendono sacro e lo dice beh questo è il luogo sacro Giove e ci costruiscono sopra l'edificio vi siete mai chiesti perché il tempio romano anche quando il tempio romano viene dalla Grecia è un'imitazione della Grecia appare solo alla fine del settimo secolo perché il tempio romano in tutta la sua storia ha il podio perché molti architetti che studiano il mondo antico sono convinti che il podio sia un fatto spaziale un fatto architettonico il podio è il templum è semplicemente la parte inaugurata su cui sorge la edes cioè quello che noi chiamiamo tempio consacrato ci deve essere quello perché altrimenti in Grecia questa cosa non c'è quindi quando noi usiamo parole come tempio dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo e soprattutto se non entriamo in questa mentalità non siamo in grado di capire che cosa è un edificio antico non basta conoscere nella spazialità l'aspetto architettonico per definire cos'è un tempio antico bisogna capire che cos'è un templum e che cos'è una edes perché ci sono cosa significa fana templa delubra e cose di questo genere sono tutte definizioni di santuari ma con particolarità diverse che poi a volte non capiamo e finisco con un'ultima cosa si può andare avanti ma molto rapidamente un po' più avanti dunque quando si deve più avanti inaugurare qualcosa non è quella mi dispiace sono andato troppo avanti vado avanti senza allora quando viene Numa il secondo re di Roma non viene non viene viene retto viene scelto lo vanno a prendere in Sabina Romolo invece è designato dagli dei si mette sul palatino fa un templum orienta e naturalmente gli auguri guardano tutti i segnali che vengono dal cielo volo di uccelli uccelli che cantano uccelli che non cantano fulmini tutti segnali che sono segnali divini se io devo fare una guerra devo prima chiedere l'operazione iniziale è questa forma di inaugurazio o auspicazio osservazione degli uccelli attraverso i quali io vengo a sapere se la guerra la vinco o la perdo se la devo fare o non la devo fare quindi precede tutto quando si fa il re il re viene eletto ma deve essere inaugurato se ne va nel templum si guardano i segnali del cielo se sono favorevoli Numa diventa re mentre tutti stanno lì ad assistere a questa cerimonia ora la curaculum sta lo so si blocca purtroppo questa è la cosa più importante che volevo dire comunque se voi andate sulla Arx cioè dove c'è Santa Maria in Araceli c'è un giardinetto e lì c'è una piccola platea di tufo che io credo sia la curaculum di Roma molti altri non ci credono io avevo preso le diapositive insomma vabbè allora può tornare molto indietro io non l'ho non l'ho controllata vi racconto la storia poi vi mostro le tre diapositive e ce le andiamo tutti a casa perché è veramente molto tardi me lo scuso ma avete voluto parlarsi di Roma ma figurati no vado allora quando Augusto terzo fondatore di Roma dopo Romolo e Camillo va a abitare sul Palatino dove è il Lupercale è chiaro che lui è il terzo fondatore di Roma dopo Romolo e Camillo e infatti il nome proposto era Romulus poi lui rinunciò a questo nome e Augusto significa Augusto Augurio cioè quello che è designato dagli dei per essere il capo ecco è questo allora quella subito prima benissimo allora vi siete mai chiesti questa è la forma urbis forse anche quella sì questa è la forma non la lasciamo il disegno di Gatti mostra quarta parte di Roma e compresa nella grande pianta marmorea che è la forma urbis una pianta di di 13 metri per 18 insomma in cui c'è una rappresentazione di Roma ma già Guglielmo Gatti quando pubblica nel 60 la forma urbis aveva detto che non è rappresentata tutta Roma ma soltanto la Roma dentro il pomerio con qualche piccolo margine perché dovendo fare una forma regolare non era possibile altrimenti quindi la Roma inaugurata lo spazio della città è uno spazio inaugurato quindi in qualche modo è uno spazio religioso anche se il senso negativo di inaugurato cioè di non religioso fa parte del religioso il profano è tutto quello che non è sacro cioè si parte dal sacro e il profano è quello che non è sacro quindi il profano fa parte del sacro perché questa pianta è orientata in modo stranissimo a sud est ora io capisco una pianta i romani mettevano in genere in alto per esempio l'Adriatico era il mare Superum quello che sta sopra il Tireno era quello che sta sotto perché vedevano l'Italia disposta orizzontalmente cioè da ovest a est noi la vediamo verticalmente ma guardate l'Italia non è né verticale né orizzontale è da nord ovest a sud est cioè la possiamo benissimo interpretare come appunto orizzontale è arbitrario anche pensare che il nord Italia sia a nord e a nord ovest ora però uno può orientare a nord a est a sud o a ovest ma perché deve orientare a sud est non ha senso nessuno si è posto questo problema se io prendo questa pianta e ci faccio un giochetto semplicissimo la prossima se ci riusciamo ecco il centro è l'Arx il centro della pianta è il punto dove è l'Auguraculum cioè il punto di visione da cui gli auguri esplorano il mondo degli dèi e il mondo degli uomini da cui si vede tutta la città tutte le mura ma si vede anche qualcos'altro ecco se vi mettete nell'Auguraculum fra l'arco di Tito l'arco di Costantino e sulla sinistra e il tempio di Venere Roma si vede il monte Albano quello è il monte Albano esattamente sull'asse dell'Auguraculum e questo asse è sud est perché è orientato come l'Italia sud est la via latina è la via che va al Laziar cioè al tentuario laziale del monte Albano segue esattamente l'asse da Roma al monte Albano dove c'è il tempio di Giove Laziale cioè è il centro della Lega Latina se voi andate a Segni che è una colonia romana antichissima sull'Auguraculum trovate un tempio di Iuno Moneta come sull'arco di Roma e una guraculum solo che stando a sud è orientata a nord e si vede il monte Albano sull'asse quindi non è un caso la prossima ecco il rettangolo è la forma urbis l'asse è la via latina e il bersaglio è il monte Albano pensate che sia casuale? è evidente che la spazialità che riguarda la città e il rapporto della città col mondo latino è una spazialità di tipo religioso augurale naturalmente forse all'epoca di Cicerone o Imperiale era un residuo però come dire il medium con cui si vedevano le cose era mitico religioso e questo fino ad Augusto per questo Augusto va a abitare dove Romolo aveva fondato Roma lui è il nuovo fondatore ma in questa ottica di rapporto con la divinità che è obbligatorio in qualche modo e che è una visione basata su premesse di tipo religioso quindi è una spazialità diversa la prossima e credo che con questo ci possiamo fermare perché se no veramente non andiamo a cena è stato un po' caotico lo capisco su questo si potrebbe sviluppare un discorso molto più ampio l'ho fatto in parte io poi lo farò ancora sicuramente però voi capite che la pianta di Roma non è solo una pianta non è solo un catasto è un oggetto religioso e la visione spaziale è preordinata in funzione di un mondo in cui la religione è presente in modo penetrante continuo totale al punto che gli auguri erano poi persone pericolosissime perché ogni volta che si doveva fare l'elezione di un console che avveniva in uno spazio inaugurato di SEPTA perché la curia e gli SEPTA dove si vota sono inaugurati perché la politica deve venire in uno spazio neutro dove non c'è nessuna influenza di entità sconosciute divine o meno quindi deve essere uno spazio assolutamente neutro quando si riuniscono gli auguri devono fare il console si mette un punto elevato e osserva gli uccelli sta lì tutta la notte la mattina fa un sacrificio e apre i comizi si fanno le lezioni si entra in questo spazio e poi se ne esce però tutto questo in uno spazio che è in qualche modo organizzato secondo questi criteri uno spazio desacralizzato è in uno spazio in qualche modo esaltato come una zona neutra al di fuori del mondo in qualche modo completamente separata dalla vita normale bonificata quindi per esempio se a un certo punto squittisce un topo gravissimo un topo è un animale sotterrano è un animale del mondo infero si blocca l'elezione voi capite che in questo modo si poteva benissimo governare facendo fare le lezioni o non facendole fare facendo condizionare la vita politica e anche la vita militare attraverso questa facciamo un esempio e finisco nella vita militare naturalmente gli auguri possono lavorare solo a Roma però nell'accampamento militare c'è la tenda del comandante il praetorium e c'è il santuario delle insegne e lì si è il santuario ovviamente dell'accampamento lì si tengono dei polli in gabbia e a un certo punto se ci deve essere il giorno dopo una battaglia gli si dà da mangiare se i polli mangiano di buon appetito vuol dire che va bene si può fare la battaglia se i polli non mangiano la battaglia magari ci sono situazioni favorevolissime è il momento giusto per farlo gli amici stanno in una posizione sbagliata niente i polli non hanno mangiato e poteva andare avanti per giorni settimane naturalmente la laicizzazione comincia quando un appio Claudio che erano un po' questi sabini strani e molto orgogliosi dovendo cominciare una battaglia navale contro i cartaginesi nella prima guerra punica consultò i polli c'era una situazione favorevole i venti erano favorevoli tutti erano pronti e i polli non mangiavano alla sesta volta perde le staffe prende le gabi le butta a mare dice se non mangiano almeno bevano naturalmente perse la battaglia grazie grazie ho evitato di parlare di politica anche se vogliamo fare grandi esforzi c'è da ringraziare basta credo che siamo rimasti tutti rapiti il discorso era molto bello anche se era fluttuante perché la bellezza di questo tuo racconto era meraviglioso anche interscalarità degli argomenti meraviglioso devo dire che io ringrazio tutti siamo alla fine di questo terzo giorno questa terza serata ringrazio naturalmente tutti i professori del mio dipartimento che hanno contribuito con le loro dichiarazioni su quei filmatini che abbiamo visto all'inizio che però sono dietro hanno delle ricerche molto importanti e che abbiamo cercato di esprimere in pochissime parole per dare un po' il senso diciamo anche di questa ricerca che ci prende molto e che ci appassiona ringrazio Filippo Corelli questa sera ho ringraziato gli ospiti delle precedenti serate e ringrazio soprattutto i dottorandi i ragazzi che hanno aiutato a costruire questa cosa i miei colleghi diciamo con i quali ho diviso in maniera più stretta diciamo l'organizzazione non è facile avere un plateatico a Roma e comunque devo dire che tutto sommato ce l'abbiamo fatta anche con le poche risorse di cui la cultura dalla quale non si mangia e però viene affamata diciamo riusciamo a metterla in piedi siamo contenti di questo risultato siamo contenti di questa bella piazza ogni sera è stata gremita e siamo contenti del fatto che voi generosamente avete regalato questo spettacolo della conoscenza mi dispiace sono io che vi ringrazio per la pazienza perché come avete capito ho dovuto nonostante il tempo che ci ho messo tagliare moltissimo c'era un discorso articolato tutto bello pronto non avevo scritto nulla ma avevo qualche appunto però è andata avanti un po' così a braccio come capite la cosa che mi interessava era far capire appunto quanto è pericoloso appiattire per esempio il mondo antico in questo caso su presupposti che sono i nostri cioè se non si passa attraverso un'analisi filologica minutissima e una comprensione profonda di questo mondo strano diverso che è il mondo antico poi i mondi antichi perché non c'è un mondo antico unitario beh credo che si possa dire poco quasi su tutto perché noi applichiamo senza rendercene conto categorie nostre moderne e questo è inevitabile anche adoperiamo parole moderne quindi dovremmo parlare in latino però ci sarebbe la domanda quale è latino il latino di Plauto o quello di Cicerone o quello di Tertulliano cioè voglio dire è impossibile a questo livello però almeno avere la coscienza che se uno vuol come dire capire gli oggetti che si trova davanti anche gli oggetti spaziali quindi io non ho parlato di architettura però tutte queste sono premesse che un architetto che si occupa di architettura antica dovrebbe avere presente Gullini e Fasolo pubblicano il santuario di Palestrina e c'è un teatro e loro dicono beh è un teatro sacro il teatro di Preneste deve stare il teatro antico è sacro è il teatro di Palestrina sta nel santuario perché il teatro è sacro si dimentica che il teatro greco le tragedie le commedie sono racconti di miti religiosi e sono fatti di religione sono fatti di festival religiosi e quindi il teatro religioso è come dire una tautologia perché i teatri antichi sono tutti religiosi però uno vede il teatro laico uno si mette il tight paga un biglietto più caro se va in platea e uno meno caro se va in loggione no il mondo antico non è una società basata direttamente sull'economia come la nostra non è una società di bottegai ecco io da giovane nessuno mi diceva la mattina mi svegliava con gli istini della borsa non esisteva nell'Italia negli anni 50 comunque è un mondo meno legato all'economia è più legato ai livelli sociali diciamo di status a teatro i primi posti avete visto che hanno dei gradini bassissimi i primi tre gradini i senatori si portavano la sera la currure da casa non hanno bisogno del gradino i 14 gradini successivi erano destinati agli equitas il resto al popolo e Augusto separò le donne dagli uomini per cui la parte più alta naturalmente era riservata alle donne ma attenzione non ha le donne tutte insieme con la stessa scansione sociale quindi il teatro antico era un perfetto quadro della struttura della società se uno un cavaliere andava nel posto dei senatori gli facevano la pelle era un sacrilegio quindi oggi Agnelli se vuole può andare anche in loggione allora un senatore non poteva andare nel posto in alto né uno del posto in alto andare nel posto in basso c'erano categorie molto precise sociali che consideravano lo stato tutto in toga il teatro tutto in toga adesso è un bello spettacolo e quindi vedete che anche il teatro antico per essere capito richiede di capire qual è la società che lo ha generato e che cosa significava era il culto di Dioniso poi era un culto poi mano a mano si laicizza un po' ma in cima al teatro di Pompeo c'era un tempio allora fu rimproverato a Roma non si poteva fare un teatro in muratura era probito per motivi di ordine pubblico in realtà e Pompeo dice no io mica ho fatto un teatro ho fatto una gradinata davanti a un tempio naturalmente nei teatri via via all'inizio c'è un grande tempio con un piccolo teatro e andando avanti il teatro diventa sempre più grande e il tempio sempre più piccolo come dire diminuisce cala la valenza religiosa e aumenta però mai fino in fondo mai del tutto l'aspetto religioso magari resizuale c'è sempre e del resto il teatro medievale si fa nel parvi delle catterrali e racconta storie sacre siamo noi che abbiamo inventato il profano indipendente dal sacro grazie Silippo grazie mille 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 grazie mille